Musica Pare di toccarlo, guardate, la veste, pare di tagliare la mano. Musica Musica Vieni a mangiare questi fatti. Ti ricordi Davide quanti ce n'erano qui l'altra volta? Adri, ti ricordi? Non è fatti, è un guassinino. Non so se? Guassinino. Sa come si dice in italiano? Guassinino. In brasiliano. Stiamo scendendo. Eccoli che stanno scendendo tutti. Dov'è la fio? E' qui dietro. Eccola. Ora si paga. Abbiamo mangiato questo tavolino, io l'anguria, non siamo riusciti a farvi le foto prima, il macedonio, il succo, l'anguria. Perché quando si ha fame, si ha fame. Giusto i piatti vuoti li possiamo fotografare. La Fiotti sta rivedendo le foto per vedere quale tenere e quale calcellare. Andiamo? Si ritorna. Andiamo a riprendere quel pulmino che ci porta giù al taxi, poi col taxi si va a Copacabana. prossimamente su questo schermo. Ciao a tutti. Aldi scende a piedi e noi in ascensore. Ciao a tutti. Siete minuti davvero non fa tempo nemmeno a fare. Manca New York su sette minuti. Ma se volete andate. Il taxista si è fermato qua dove c'è l'heliporto. Dice che è bello da vedere com'è vista. Che meraviglia. Vedi? Guarda. E spesso... Quasi il tramonto, eh? Oh, guardate. E eccola al Cristo. Ma se andiamo avanti così, tramonto e svegliamo. Memoria esaurita, Giovanni. Oddio, basta. Basta qui, dai. Sì c'è una favela sotto questa collinetta. Ora vi faccio il giro panoramico di questa rotonda. Vedete la rotonda come è messa? Questa è una terrazza tonda sullo scenario. Quindi io adesso, cominciando da qui, proseguo e vi faccio vedere tutto il panorama. Guardate che roba è. C'è un'emozione incredibile. Ti va a fare il piano. Ah, rispettate? Ho scoperto, sì. Guardate la finice col Cristo. Grazie.